Continua a professarsi innocente dal carcere Eddie Tavares, l'ex fidanzato della riminese Jessica Notaro, accusato per l'aggressione con acido ai danni della ragazza. Dalla casa circondariale di Forlì, dove è stato trasferito in seguito al clima teso che si era creato in quello di Rimini, il 28enne di Capoverde rischia di essere processato per lo stalking che avrebbe praticato sulla ragazza nel periodo antecedente il lancio dell'acido. Per il 2 marzo prossimo è fissata l'udienza preliminare di fronte al GUP del Tribunale di Rimini. Il ritratto di Tavares che emergerebbe dalle inchieste e quella di una persona irrequieta deve infatti rispondere dell'accusa di aggressione non solo verso la ragazza, ma anche nei confronti di ex colleghi di lavoro, oltre a quella per la detenzione abusiva di armi e di maltrattamento di animali. Per queste accuse, il PM Marino Cerioni aveva richiesto il rinvio a giudizio per Tavares proprio il giorno prima del ferimento di Jessica? L'atteggiamento che il 28enne avrebbe tenuto nei confronti della ex compagna sarebbe stato a dir poco insostenibile. Secondo gli inquirenti, Eddie si sarebbe fatto trovare spesso sul luogo di lavoro di Jessica o nei posti che lei frequentava, arrivando persino a malmenare gli amici di lei. Fra le scenate del ragazzo si annovera quella in cui avrebbe appeso un cappio sul cancello di casa della ragazza. Ma Eddie insiste, non sono stato io. Grazie. 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 Grazie a tutti